Non mi presento, l'oggetto della conferenza è un po' le opere d'arte del Centro Antico di Castellammare. Voglio fare una premessa così che è venuta a destra, siccome lei, Nellino, parlava delle cose belle e importanti di Castellammare, allora volevo iniziare con una cosa bella e importante che non sta dicendo il Centro Antico, ma molto velocemente, perché se volessi parlare di tutte le cose belle e importanti, artisti di Castellammare, ci vorrebbero ore, quindi, di Stagna. Allora, che cosa è la cosa più importante del mio padre Nellino e teniamo in Castellammare di Stagna? Noi abbiamo un ipogeo di epoca paleocristiana che ha l'erroneo nome di Conta San Biagio. Per la verità, quello è l'ipogeo dei Santi Ciasone e Mauro. San Biagio non c'entra niente, il nome Ciasone, Ciaso, diventa Storpiato, Piasso e diventa Biagio, ma non c'entra niente. È dedicato a questi due San Martiri cristiani martirizzati in Roma insieme ai genitori e i Benedettini le furono i primi a utilizzare questo regolgeo e a trasformare un'antica catacomba o un'antico ceneterno cristiano in Chiesa, lo dedicano ai Santi Ciasone e Mauro e all'orale, perché i Benedettini nella zona hanno intitolato molti oratori a questi Santi Ciasone e Mauro. È importante perché c'è il ciclo pittorico di Affreschi che va dal VI al X secolo. È un bene importantissimo che dovrebbe far parte dei beni dell'unisco. Purtroppo, poiché questa Castellammare è sconosciuta, è chiusa, bene ha fatto il Comune durante le immagini dei monumenti, ha realizzato, perché in effetti non è accedibile, perché ci sono le toghe aperte, la terra, eccetera, però ha aperto la porta, perlomeno l'accedere si è affacciata e ha saputo che da noi ci sta una cosa molto importante. E andiamo al centro antico di Castellammare, perché io insisto neanche di centro antico, non centro storico, facciamo questa distinzione una volta per sempre, perché si usa sempre questo termine che non va. Allora, qual è la differenza? Il centro antico è il centro antico della città, dove è nata la città, dove la città è iniziata a nascere. Il centro storico, invece, è la città via, non so, via Lugare del Fusco è il centro storico, via Gesù è il centro antico, perché la zona dell'antica, di Salvo, è il centro antico, anche Scalzani è il centro antico. Quindi, parliamo, solo per organizzare belle idee, partiamo quindi da questo centro antico e quindi dall'antica città, all'antica città, si estende che l'antica città intende una città fino al diciottesimo speculo, insomma, fino a un periodo, inizio periodo corcolico, quindi dalle origini fino all'inizio del settecento.